buongiorno a tutti siamo alla rassegna stampa di oggi martedì 15 dicembre diciamo le conseguenze degli affollamenti peraltro diciamo vedremo sono editoriali molto interessanti oggi è una giornata particolare perché sia sul tema degli affollamenti sia sul tema della verifica delle questioni poste d'italia viva un po le cose cambiano nei commenti è vero che sui giornali ci sono ancora dei retroscena di chi vorrebbe che italia viva risolvesse questa questione semplicemente prendendo qualche posto ma in realtà gli editorialisti vedremo alcune cose mettono in evidenza quanto le questioni poste d'italia viva ancorché poi qualcuno ci si nasconda dietro sono questioni serie da una parte dall'altra parte diciamo condivise all'interno della maggioranza anche se appunto tutti un po si nascondano ma anche sugli affollamenti ci sono tutta una serie di commenti che non dicono che è esattamente quello che ha detto italia viva ma che mettono in evidenza le contraddizioni del governo nel momento in cui fa delle scelte e poi pretende che i cittadini si comportino diversamente ma è tutto molto interessante oggi andiamo rapidamente perché ci sono moltissime cose intanto andiamo con i numeri i numeri oggi ripetiamo sicuramente dal Corriere della Sera pagina 5 risale l'indice rt il rapporto positivi tamponi all'11,7 per cento a marionina iossa e ce ne parla registrati 12 mila 30 nuovi contagi ma con meno test superata quota 65 mila vittime ieri sono stati 491 ma versione più dura è quella del messaggero che a pagina 6 la mette così la curva non scende più e la mortalità risale ricoveri ricoveri in lieve crescita il ministero della salute a novembre decessi su del 72 per cento nelle città del nord Roma più 57 per cento rapporto positivi tamponi fermo all'11,6 l'indice rt torna a 0,89 insomma i dati non buttano bene a vedere quello che è il bollettino di oggi ma poi chissà perché ogni giorno le cose vanno un po' diversamente però vediamo subito le nuove misure perché perché a seguito dei cosiddetti affollamenti che abbiamo visto ieri il governo sembra fare un'ulteriore inversione di marcia e allora il Corriere della Sera con Monica Guerzone e Fiorenza Sarzanini a pagina 2 Italia Arancione o blocco totale le tensioni tra i ministri gli scienziati del CTS temono un'impennata del contagio dopo Natale le discussioni nell'esecutivo per un nuovo lockdown alla tedesca e poi ci sta se volete Margherita De Bac che intervista Ippolito che è il direttore scientifico dello Spallanzani membro del comitato che dice stiamo ripetendo l'errore fatto in estate la storia non ha insegnato nulla se non stiamo attenti durante le feste il prossimo marzo sarà come quello del 2020 scrive dice Ippolito a Margherita De Bac e poi se volete a pagina 5 c'è l'immancabile ministro della salute Speranza che colloquia con il Corriere della Sera e credo sia in particolare con Monica Wezzoni la linea di Speranza chiudere non aprire Merkel ha fatto bene e va bene questo è quello che ci dice Speranza ma andiamo a vedere anche Repubblica che si occupa della questione a pagina 2 e la mette così il CTS zona rossa subito l'Italia verso la chiusura ma è scontro nel governo il comitato scientifico scrivono Michele Bucci e Tommaso Ciriaco invoca la stretta per evitare la terza ondata PD favorevole conte più prudente ristoranti e bar serrati per tutte le feste i negozi nei giorni clou l'ipotesi stop agli spostamenti già il 19 e poi anche qui l'immancabile Galli quello che fa metà tra il virologo e il politico l'Europa si blinda da noi continua il tir e molla in troppi non hanno capito la politica un giorno parla di ammorbidire le misure non altro di rafforzarle e la gente se ne approfitta questo concetto che vedete come anche tra i virologi ma non solo vedremo l'altro epico ministro boccia quello che dice che Italia via scomparirebbe se si andasse al voto ecco certe volte forse diciamo alcune dichiarazioni di boccia ma lo vedremo sarebbe sarebbe come dire meglio che diciamo sparissero esse dal panorama perché sono per usare un eufemirismo confuse e contraddittorie ma insomma tutti qui se la scaricano sui cittadini che applicano diciamo le regole le leggi vedremo una cosa interessante di nordio sulla certezza del diritto vabbè ma insomma questo è è Galli e ci abbiamo un altro esperto che è crisanti che parla invece sulla stampa a pagina 6 che la mette così se non si fanno investimenti sul tracciamento e strutture il lockdown è una presa in giro il virologo già a ottobre chiedeva una stretta durante le vacanze dice non ci si può aspettare non si può aspettare il vaccino solo con isolamento e mascherine serve una strategia l'Italia ha puntato su AstraZeneca che però è in ritardo non so se il governo abbia un piano B l'opulente a Germania ha dato a tutti una lezione dimostrando che la salute si mette sopra i quattrini sì piccolo particolare che la Germania poi i quattrini li dà quasi al 100% praticamente a chi viene chiuso ma ancora sulla stampa se volete a pagina 7 c'è una cosa che diciamo se non fosse ridicola sarebbe anche divertente perché ci dice a pagina paolo russa pagina 7 della stampa ascoltate cts impressi sul governo virgolette zona arancione rinforzata quindi dopo la zona gialla la zona rossa la zona arancione adesso iniziamo anche con le gradazioni abbiamo la zona arancione rinforzata e poi si dice che i cittadini non capiscono e magari non si comportano in modo coerente e coerente rispetto a cosa se è possibile domandarlo se volete andiamo anche sul domani a pagina 3 senza chiusure a natale la terza ondata inevitabile quello che ci dice davide maria de luca e filippo teoldi sul domani e questa è la lezione americana la festività le festività creano l'ambiente ideale per la diffusione del contagio come dimostra l'aumento di casi negli stati uniti dopo il ringraziamento in europa i governi cercano di evitare che accada lo stesso questo è quello che ci dice il domani poi se non ci basta questo abbiamo anche pregliasco che in questo caso ci parla della scuola e ci mette sul chi va là e dice aprire la scuola a gennaio un rischio con questi dati il virologo dice oggi fatico a immaginare come si possano strutturare i trasporti la terza ondata è inevitabile possiamo solo provare ad arrivarci nel modo migliore ecco qua un'altra parola di speranza vabbè ma chiudiamo questo capitolo che è meglio e passiamo a quello degli affollamenti perché allora correre della sera pagina 6 folla nelle strade sala si smarca basta dare la colpa ai cittadini per il sindaco di milano le code erano prevedibili sul fronte opposto zaia uno spettacolo immondo e sala e anche gori devo dire ieri ha fatto dichiarazioni in questo senso giustamente come se la fa a prendersela con i cittadini e anche a pagina 3 della repubblica alessandra ziniti allarme folla per il prossimo weekend checkpoint in stazioni e centri storici in campo 15 mila uomini atteso già da venerdì l'esodo verso sud e le seconde case ecco questo è quello che ci dice repubblica e se volete ci stanno anche giornali e diciamo dell'opposizione se così vogliamo chiamarli come il giornale pagine 6 e 7 che la mette così chiusi per le feste il lockdown di natale nel governo spaccato voglia di linea dura ma portafogli vuoto maggioranza decisa ad accendere il semaforo contro gli assembramenti indecisa sul colore tutta italia in zona rossa orancione il dubbio resta appeso al perimetro dei risarcimenti da pagare alle aziende il pd vuole salvare piccoli comuni speranza lo stop nei giorni prefestivi e poi a pagina 7 i governatori irritati dalle giravolte continue frenata sulle aperture insomma questo è quello che ci dice il giornale abbiamo anche lì scusate ma questo prima o poi doveva succedere vengo subito il mio foglio con gli appunti è la prima volta che succede ma sapevo che sarebbe successo dicevo libero pagine 6 e 7 scusate libero in prima pagina gli italiani sbagliano meno del governo non si può aprire per poi chiudere l'esecutivo ci lascia andare a fare compre però si lamenta se usciamo e ora blinda le feste va bene combattere il virus non essere presi in giro così la mette libero e vediamo che un po questo è il tenore e ci passiamo subito ai commenti che leggiamo sui quotidiani cominciamo con polito sul correre della sera prima pagina le accuse ipocrite scrive polito stupisce lo stupore dei nostri governanti nazionali e regionali se hanno aperto i negozi nella per ultima domenica prima di natale è abbastanza scontato che la gente vada a fare shopping se i bar e i ristoranti possono servire aperitivi e pasti non sorprende che gli avventori li consumino soprattutto se si è appena varato un modo pubblicizzato incentivo allo shopping fisico quel cashback studiato apposta per spingere i consumatori a uscire di casa invece di comprare online e prosegue a pagina 6 polito vedete questo emerge subito tutto quello che ieri dicevamo noi prosegue polito sembra un déjà vu anche in estate subito dopo aver distribuito bonus vacanze riaperto le discoteche si leva un coro di indignazione verso chi era andato in vacanza o in discoteca chiude così polito al suo articolo c'è un problema c'è una profonda differenza fra i comportamenti individuali e comportamenti collettivi la psicologia della folla è cosa ben diversa dalla psicologia del pubblico perciò nelle società complesse ci siamo dotati di autorità di governo che disponendo di dati flussi e previsioni possono orientare meglio i comportamenti collettivi è come con il traffico se si sbaglia a organizzare il giro dei sensi unici o si creano delle strettoie l'ingorgo ci sarà anche se tutti gli automobilisti seguono la lettera le norme del codice è una questione di idraulica non di etica la tendenza a dare la colpa al comportamento degli individui di ciò che non funziona nel distanziamento sociale e a chiudere i recinti quando i presunti buoi sono scappati l'altra fa è l'altra faccia del populismo laddove quello idolatra un popolo indistinto e unico che avrebbe sempre ragione questo se la prende con un popolo invariabilmente indisciplinato che rovina tutto gli italiani hanno dato invece il dimostrato di essere capaci di rigore e abnegazione se le norme sono chiare contemperare le tante diverse esigenze dei commercianti e degli infermieri dei consumatori e dei malati dei giovani e degli anziani non è esercizio facile per nessun potere pubblico e comprendiamo le incertezze del nostro ma una linea va scelta e tenuta ieri il commissario europeo paro gentiloni ha scritto in un tweet la germania ha avuto finora 1,3 milioni di casi e 21 mila morti noi 1,8 milioni di casi e 64 mila morti in germania nuove misure restrittive fino al 10 gennaio in italia ce la prendiamo con la gente ecco qua vedete questo sul polito sul correre della sera ma andiamo avanti perché sono un po tutti che la mettono in questo modo andiamo per esempio sul giornale in prima pagina scrive giuseppe marino dice l'esempio più lampante è il cashback neanche il tempo di esaurire il scarcasmo sul governo che vara al bonus vacanze poi si lamenta degli assembramenti da spiaggia e già spunta il bis negli stessi giorni rompono la clausola la abitanti di regioni rosse e arancioni e varano un incentivo a fare shopping di persona di più non solo il cashback è concepito per favorire gli acquisti in negozio escludendo l'online ma con il massimale di 15 euro di risarcimento a transazione spinge a moltiplicare gli acquisti girando per negozi aprono i cancelli ai buoi vedete che ritorna il tema sventolano il fieno e se abboccano li mettono in castigo il governo ha ripetuto l'ignobile giochetto così tante volte che ormai è scoperto giuseppe conte all'inedito potere di decidere tutto da solo a colpi di dpcm ma sarà che avvocato e non giudice non si è voluto prendere la responsabilità di sentenziare l'abolizione delle ferie estive o delle feste natalizie gli assembramenti del weekend non sono la conseguenza involontaria delle decisioni contraddittorie e last minute sono l'anibi perfetto costruito dal pastore per dare la colpa al greggio e capo espiatorio ideale per lo scaricabarile del leader certo si dirà noi pecore e buoi avremo potuto dimostrare maggiore prudenza ma de responsabilizzare i cittadini è stata una scelta deliberata dall'inizio della pandemia si confrontano due modelli svedese non vieta responsabilizza il singolo ed evita autocertificazioni o sanzioni inapplicabili all'estremo opposto l'italiano vieta i comportamenti a rischio e trasforma continue regole minute con un limite se chiedi al cittadino di crederti e obbedire sorpresa quando dirai loro di andare per negozi lo faranno per davvero questo non può assolvere i singoli da tutte le leggerezze ma mette brutalmente in mostra i limiti di una classe dirigente troppo impantanato e impantanata è una classe dirigente tra verifica politiche e task force per organizzare in modo efficace la convivenza con il virus e passi che giochino con le nostre vite a colpi di slogan emozionali se non fosse che il prezzo è il record europeo di morti è un'economia in pezzi e ora chi se ne assume la responsabilità così marino sul giornale ma andiamo avanti perché ci sono anche diciamo sulla stessa linea abbiamo per esempio feltri sul domani che la mette così il titolo è tra cashback e negozi una spinta gentile verso il baratro dice le foto degli assembramenti mostrano scene ingiustificabili irrazionali irresponsabili dice il ministro per gli affari regionali francesco boccia nel conformismo che domina il dibattito pubblico italiano ora è il momento di indignarsi per lo shopping di natale ma fermiamoci un secondo a chiederci come è possibile che un paio di sedi persone tutto sommato razionali che ha perfino imparato a mettersi la mascherina in pubblico fa qualcosa di così assurdo come assediare negozi per comprare regali che poi non potrà consegnare viste le restrizioni in vigore nei giorni di natale nel 2017 l'economista reichard thaler ha vinto il premio nobel per i suoi lavori di economia comportamentale sull'approccio della spinta gentile o del paternalismo morbido molti governi le hanno applicate basta dare piccoli stimoli alle persone per farle andare nella direzione desiderata molto più efficaci delle imposizioni della dall'alte dirigiste piccoli stimoli come un rimborso simbolico delle loro spese natalizie se scaricano un'app escono di casa e vanno in un negozio fisico a comprare qualcosa pagando con la carta di credito certo c'è il problema che poi quei legali non si riescono a consegnare a parenti amici lontani e nessuno ha voglia di fare acquisti solo per se stesso visto che sciarpe borse gravatte e tute da sci neanche si possono sfoggiare in occasioni sociali ora e allora ecco le indiscrezioni passate ai giornali sul fatto che il governo sta pensando di rivedere le restrizioni appena decise per i giorni delle feste con il presidente del consiglio che annuncia addirittura di voler lasciare decidere su questo il parlamento una presa in giro visto che camera e senato non hanno tempo per deliberare nulla prima di natale e neppure il modo non possono emendare decreti della presidenza del consiglio così gli italiani vengono prima pagati con soldi pubblici e poi incoraggiati a vincere i propri dimori sanitari più che fondati e a correre negozi per convincere anche più scettici si osserva un inquietante calo dei tamponi che fa crollare il numero dei nuovi casi positivi ma non quello dei morti e crea l'atmosfera giusta risultato raggiunto la presidenza del consiglio può finalmente annunciare trionfante che già compaiono i primi cittadini che hanno maturato il diritto al cash all'extra cashback di natale sono infatti 15.000 partecipanti che hanno già raggiunto la soglia minima delle 10 transazioni necessarie per ottenere il rimborso del 10 per cento sugli acquisti effettuati con carte e app di pagamento entro il 31 dicembre 2020 a proposito dei rischi di questo periodo che combina occasioni di incontri sociali e minore percezione del pericolo il solito nino cartabellotta della fondazione gimme ha scritto un burrone senza parapetto non può essere da solo considerato istigazione al suicidio di massa mancava giusto una spinta gentile e il governo ha deciso di darla vedete come ci va giù duro anche feltri sul domani ma non abbiamo finito perché questo tema è molto interessante nordio nordio parla di una cosa di cui ogni tanto ci capita di parlare e cioè la certezza del diritto schizofrenia dei divieti e certezza del diritto è l'editoriale di prima pagina di nordio che poi prosegue a pagina 27 e conclude così il suo editoriale cosa ha fatto invece il governo parla appunto della certezza del diritto e di tutto quello che si dovrebbe fare dice cosa ha fatto invece il governo in questi ultimi mesi è intervenuto di imperio con provvedimenti oscuri come le notti in cui sono stati adottati vi acclam direbbero gli antichi romani spesso ambigui e contraddittori tra loro come quello del divieto di transito intercomunale in un territorio in cui spesso la porta d'ingresso è in un comune e il cancello per la macchina da sulla strada di uno diverso o come quello che considera possibile il pranzo ma pericolosa la cena e infine l'ultimo il cosiddetto cashback inteso come restituzione da parte delle somme spese in modo tracciabile con lo scopo di incoraggiare i consumi già ma se si incoraggiano i consumi è prevedibile che la gente nel periodo prenalizio si precipiti nei negozi e qui l'incertezza raggiunge il paradosso questi esercizi nella stragrande maggioranza si erano tempestivamente adeguati alle precedenti disposizioni con aggravio di spese di energie hanno sanificato distanziato ristrutturato botteghe e ristoranti e gestori spesso si sono dovuti sostituire allo stato con gendarmi della legalità tutte cose buone giuste o comunque necessarie ed ora arriva il contrordine abbiamo scherzato si chiude vogliamo la riprova di questa schizofrenia basta guardare le sanzioni queste sono state relativamente poche anzi pochissime rispetto all'allarme lanciato dal governo ora delle due luna o queste non erano dovute perché quasi tutti hanno rispettato le regole e allora vuol dire che queste erano sbagliate o erano insufficienti a prevenire i contagi oppure non si è riuscite ad applicarle ed allora lo stato si è dimostrato riluttante ed imbelle come la mamma indulgente con il bambino capriccioso e quindi ha preso e continua a perdere autorevolezza e credibilità in entrambi i casi il cittadino a disorientare sfiduciato irritato questi sentimenti negativi potrebbero tradursi in rassegnazione apatica e questo minerebbe al dalle fondamenta una possibile ripresa oppure potrebbero convertirsi in protesta collettiva e magari non violenta ma comunque visibile e questa sarebbe una catastrofe l'unico rimedio è un protocollo di regole chiare omogenee e soprattutto razionali ma la necessità di tenere in piedi una coalizione così precaria segue delle ragioni che la ragione non conosce così è nordio sul messaggero e concluderei questo capitolo che è molto interessante vedete diciamo poi ci dicono che noi siamo e sono esattamente le cose che ieri in più di un esponente d'italia viva hanno cercato di mettere in evidenza e abbiamo adesso cerasa sul foglio lo shopping come capo espiatorio e tra l'altro dice cerasa dice se davvero le vie dello shopping dovevano rimanere chiuse la responsabilità non è di chi è andato a fare shopping ma è di chi ha scelto di non chiudere quelle vie se davvero le vie dello shopping dovevano rimanere vuote le responsabilità non è di chi è andato a fare shopping ma semmai è di chi come il governo di cui fa parte il ministro boccia ha demonizzato l'e-commerce invitando esplicitamente gli italiani ad andare a fare acquisti nei negozi se davvero le vie dello shopping dovevano rimanere vuote la responsabilità non è di chi è andato in strada ma semmai è anche di chi come il governo di cui fa parte il ministro Boccia ha creato un meccanismo contorto come cashback che prevede un rimborso spese solo per tutti gli italiani disposti a usare la propria app per acquisti in presenza all'interno dei negozi. Se davvero poi le vie dello shopping dovevano essere meno piene rispetto a come lo sono state in questo weekend, il ministro degli affari regionali dovrebbe chiedere spiegazioni al collega che si trova al Viminale, il ministro Luciano Lamorgese, che giusto ieri ha fatto sapere come sono andati nei weekend i controlli effettuati per il contenimento della diffusione del covid in Italia. Persone controllate il 12 dicembre 80.285, persone sanzionate 1.058, poco più dell'1,3% dei controllati, persone controllate il 13 dicembre, cioè il giorno dopo, 88.505, persone sanzionate 952, poco più dell'1%. Dati che ci mostrano una verità ineluttabile o non funzionano i controlli e dunque il problema è il responsabile dei controlli o anche in questo caso non hanno senso le polemiche e dunque il problema è chi le crea. Dobbiamo fare l'ultimo sacrificio, ha detto domenica l'ineffabile commissario Domenico Arcuri intervistato da Fabio Fazio e per questo faccio un appello ai cittadini, non ci fate più vedere le foto che abbiamo visto oggi perché dobbiamo evitare che la terza ondata abbia luogo e sarebbe complicato iniziare la campagna di vaccinazione con inasprimento della curva dei contagi. Nel nostro piccolo ci permettiamo di rivolgere un controappello al dottor Arcuri e al dottor Boccia sperando che la distribuzione dei vaccini contro il covid sia più fortunata di quella degli anti-influenziali e sperando che la scelta della primula avallata dal commissario Arcuri come simbolo del gazebo per i vaccini anti-covid si riferisca alla bellezza di un paese vaccinato e non, come temiamo, alla rarità dei vaccini a cui si richiama la stessa primula. E l'appello è questo. Se il guaio dell'Italia oggi sono i cittadini che fanno cose consentite e persino suggerite, non sarebbe il caso di riconoscere che il problema non è quello che fanno quei cittadini ma sono le autorità che permettono di fare cose che non si dovrebbero fare? Nel presupposto che gli interlocutori di questo articolo conoscano l'esistenza del principio di non contraddizione, varrebbe la pena a questo punto chiedersi se le immagini ingiustificabili, inspiegabili, irrazionali e irresponsabili oggi siano quelle offerte da chi si trova in strada o quelle offerte da chi si trova al governo. Risposta gradita. Così Claudio Cerasa oggi sul foglio in prima pagina. Va bene, chiudiamo questo capitolo e torniamo invece ad altre questioni perché tra poco arriviamo alla politica. Per quanto riguarda la manovra voglio prendere dal sole 24 ore in prima pagina il titolo di apertura. Partite IVA, pacchetto di aiuti in arrivo, allo studio un anno senza contributi per gli autonomi, fondo da un miliardo, indenità per gli iscritti alla gestione separata dell'Inps che hanno perso reddito. Questo è quello che si dice sulla manovra. Poi si parla del maxidecreto ristori, escluso il taglio al Atari, detassati i bonus Covid e ancora per quanto riguarda i recovery l'altolato dei costruttori su appatti e super bonus imprese non rispettate. E poi ancora ci sono tutte quelle che sono le cose della manovra che ancora però sono in itinere, in fieri, in commissione bilancia alla Camera. Vedremo come evolveranno. Veniamo alla politica perché c'è la verifica che è stata impostata dal Presidente del Consiglio. Cominciamo con la stampa perché la stampa porta un'intervista di due pagine al Presidente del Consiglio fatta dal direttore Massimo Giannini, sono la pagina 2 e la 3 che sono però sintetizzate nella prima pagina. Scrive Giannini, la verifica è una brutta parola, non gli piace ma Giuseppe Conte deve farsene una ragione, dopo settimane di anatemi, veleni tra gli alleati riluttanti, la famigerata verifica di maggioranza è infine cominciata e il Presidente del Consiglio fa bombiso a cattivo gioco. Virgolette sono stati posti alcuni problemi politici, ascolteremo tutti i partiti come giusto che sia per fare in modo che l'azione del Governo riparta in modo più coese e condiviso. dice in questa intervista, mentre tra una riunione e l'altra si siede in una poltrona della sala degli arazzi di Palazzo Chigi, ma non si nasconde le difficoltà. Il Governo deve andare avanti ma a certe condizioni e non a qualsiasi costo, si può governare solo se c'è fiducia reciproca tra di noi, dice. In mezzo a certe condizioni c'è probabilmente il rimpasto, anche se lui non vuole sentir parlare, è un'altra brutta parola. Come non vuol sentir parlare di scuse, quelle che gli chiede Renzi sulla task force per il recovery plan, e meno che mai di superpoteri e di un uomo solo al comando. Queste sono tutte fesserie, sono forse il Premier che ha usato il metodo più partecipato da molti anni a questa parte, mamma mia ragazzi, parla di Covid e annuncia che le nuove misure restrittive per le festività, ma non necessariamente la zona rossa, arriveranno nelle prossime ore. Poi della famigerata fondazione per la cyber security, se a Renzi non piace se la prenda con Gentiloni che l'aveva proposta quando guidava il Governo non con me. E anche del caso Reggeni, l'avvio del processo con nomi e cognomi degli imputati è un fatto importantissimo, poi ancora del ritiro del nostro ambasciatore dal Cairo. Insomma questa è la sintesi dell'intervista che Giannini fa sulla stampa al Presidente del Consiglio, ma vediamo come la mettono gli altri giornali. Allora abbiamo il Corriere della Sera che, pagina 12 e 13, pagina 12 con Emanuele Buzzi, Movimento 5 Stelle e PD a Palazzo Chigi, i leader dicono non c'è rimpasto, voci su un ministero a Italia Viva, oggi andrà a Renzi, l'ipotesi Scalfarotto a WTO e una delega in più. Questo è quello che dice il Corriere della Sera. E poi Marco Galluzzo firma il retroscena a pagina 13, Conte cerca un nuovo accordo, fatti errori, non sono infallibile, un documento sul programma più peso a Demme Renziani sui fondi dell'Unione Europea e dice sui servizi le spinte di PD e Italia Viva a lasciare la delega ai servizi, ma il Premier non intende cederle. Poi sul Recovery Plan l'idea è una guida più snella che potrebbe essere decisa in un incontro con i leader. E questo è quello che ci dice il Corriere della Sera nelle pagine 12 e 13. E poi però, se volete, a pagina 15 c'è un retroscena di Maria Teresa Meli sul PD, sbloccare tutto, il PD preme sul riforme e programma, dice la Meli non ci sarà il rimpasto, Conte ha capito che Renzi non aprirà la crisi e in cambio gli darà una nuova visione della cabina di regia. Del resto il Premier non avrebbe avviato questi incontri se non avesse capito che in fondo la verifica è già chiusa, è uno dei componenti della delegazione PD che ieri ha visto il Premier a parlare così. Secondo questo componente della delegazione del PD, che parla a nome di Italia Viva, la verifica è già chiusa perché Renzi sta tirando indietro. Dice che non c'è enfasi, in realtà non ci sono nemmeno grandi attese. Certo, i Dem sperano che la task force contiana si trasformi nella più semplice e facile da gestire da parte della politica, unità di missione che loro sin dall'inizio reclamavano e sanno che la partita può finire solo con una pari e patta. Renzi non farà cadere il governo, Conte la smetterà di tentare di fare a meno dei partiti della sua maggioranza. È vero che ancora ieri Matteo Renzi, bontà sua, dice la media, avvertiva, i contentini non mi bastano, non ci faccio niente, ma il drappello PD che si presenta da Conte sa che in fondo la partita è già bella che chiusa. Solo Graziano Del Rio insiste, siamo in una situazione di stallo, non andiamo da Conte a fare chiacchiere, il problema è che a volte chi sta al governo perde il senso della realtà. Diciamo che soprattutto chi fa la parte della delegazione del PD e parla per Italia Viva sembra avere perso il senso della realtà. Ma se vogliamo capire meglio che cosa sarà l'incontro di oggi, almeno così come il Sole 24 Ore lo prevede, basta andare a vedere Emilia Patta su Sole 24 Ore. Il titolo è Renzi punta su un'unità di missione interna alla pubblica amministrazione. Allora, dice Lapatta, via la cabina di regia sul recovery plan immaginata dal Premier, no ai sei supermanager che avrebbero dovuto agire in sostituzione dei ministri e con poteri in deroga alla legge. Quando Matteo Renzi salirà oggi a Palazzo Chigi con la delegazione di Italia Viva, si aspetta sul piatto la retromarcia di Giuseppe Conte sulla questione che ha dato il via alla crisi strisciante di fine anno. La gestione degli ingenti fondi UE che stanno per arrivare dalla seconda metà del 2011, appunto, ma anche le priorità programmatiche contenute nel piano di rilancio e resilienza fin qui approntato da Conte. Chi ha deciso che alla sanità vanno solo 9 miliardi e che al turismo addirittura solo 3? Ripete l'ex Premier. Quel che manca, secondo i renziani, è una visione del Paese da qui a 10-20 anni, come sottolinea il consigliere economico di Renzi e presidente della Commissione Finanze della Camera Luigi Marattin, abbiamo l'occasione irripetibile e dunque il dovere di fare un vero piano industriale del Paese. Gli obiettivi indicati dalla bozza di Palazzo Chigi appaiono in quest'ottica molto fumosi, vanno specificate le filiere industriali che da qui a 10 anni debbono rafforzarsi per la svolta green, ad esempio. Non basta un elenco di cose. Merito dunque, ma soprattutto metodo, il destino delle ingenti somme dei fondi non può essere deciso nelle segrete stanze di Palazzo Chigi. Quello che ha in mente il leader di Italia Viva è un'unità di missione con personalità scelte all'interno della filiera della pubblica amministrazione per monitorare e controllare l'implementazione di progetti. Un po' sul modello di Italia Sicura, l'unità di missione che fu messa in piedi durante il governo Renzi sul distesso idrogeologico. Quanto alla cabina di regia politica deve essere in capo al governo nella sua collegialità in accordo con il Parlamento. Nessun triunvirato e c'è già il Ciae che può essere di volta in volta allargato ai ministri competenti. D'altra parte il malumore verso la task force, immaginata da Conte, attraversa anche gli altri partiti della maggioranza. Se il reggente del Momento 5 Stelle Vito Crimi ha ricordato al termine dell'incontro di ieri a Palazzo Chigi che il Momento 5 Stelle ha cercato di far capire che tutti i ministri debbono essere coinvolti, anche D'Aleu trapela scontento. Questo è quello che ci dice la patta sul Sole 24 Ore che non è esattamente quello che vorrebbe farci credere qualche misterioso facente parte della delegazione del PD all'incontro con Conte. Ma allora, siccome ieri Conte ha incontrato anche il Movimento 5 Stelle, ce ne parla la Repubblica a pagina 8, a pagina 8 ci dice da 5 Stelle e PD no al rimpasto, Zingaretti dice va rilanciata l'azione del governo, il Premier avvia la verifica e i due partiti allontanano la crisi lasciando il cerino a Renzi, questo scrive Giovanna Casadio, Crimi dice servono più controlli dei ministri sul recovery plan e punta i piedi sull'eco bonus. Ma poi se volete c'è il retroscena di Tommaso Ciriaco ed Emanuele Lauria, pagina 9, Conte cerca di isolare Renzi e il leader di Italia Viva dice venga in Parlamento o a fine anno stacco la spina e poi udite udite abbiamo il capogruppo del Movimento 5 Stelle sulla Repubblica che diciamo con una sfida al ridicolo fa un'intervista e il titolo è noi temiamo le urne se si vota Italia Viva scompare e questo è quello che dice il capogruppo del Movimento 5 Stelle. Ora diciamo visti i risultati in Parlamento e nei numeri è più facile scompare il Movimento 5 Stelle che non Italia Viva se seguiamo il trend di rimpicciolimento dei dati sia elettorali che parlamentari di Italia Viva. Però detto questo anche Crippa si occupa, tutti si occupano del se si va a votare Italia Viva scompare e insomma vorrei dire guarda mi piacerebbe verificarlo ma lasciamo perdere perché siamo in una situazione difficile e non è il caso ma a proposito delle interviste voglio segnalarvi sulla stampa a pagina 4 c'è un'intervista al capogruppo Demma al Senato Marcucci che dice finalmente il Premier è in campo ma ora coinvolga il Parlamento dice tocca a lui trovare una sintesi bisogna farlo in fretta vogliamo collegialità forse sarebbe anche utile un incontro tra tutti i leader della maggioranza dice in questa intervista fatta da Fabio Martini e Andrea Marcucci e poi c'è il Movimento 5 Stelle che Ilario Lombardo ci parla del caso che dice al Partito Democratico no al rimpasto sulla nostra pelle. Questo è il tenore dei rapporti interni alla maggioranza ma abbiamo ancora ovviamente i giornali dell'opposizione della destra e allora il giornale a pagina 2 la mette così la verifica farsa Conte consulta gli alleati per finta Renzi d'Inghia ma non fa paura e questa è Laura Cesaretti a pagina 2 e poi a pagina 3 Giuseppi sta a galla con il salvagente di Mattarella concedi qualcosa vedremo perché anche il ruolo del capo dello Stato viene oggi sui giornali il tempo è un po' più diretto come al solito con Francesco Storace Conte è preoccupato, punto, per sé. Tutto il paese ieri era in attesa di sapere che accade a Natale il premier aveva altro in testa, ha passato la giornata col Movimento 5 Stelle e poi col PD solo a discutere di rimpasto e posti di governo. Prima viene lui, poi gli italiani. La sceneggiata prosegue oggi, c'è il faccia a faccia con Renzi e poi ancora, se volete così, la verifica parte in salita, pagina 2 con Donatella Di Nitto e poi il rimpasto della vergogna e Francesco Storace appunto nelle pagine interne insomma così la mettono i giornali del centrodestra se poi volete uno che dice destra e di sinistra e che rilascia un'intervista a Libero diciamo un po' macabra, De Benedetti, ah no non è un'intervista, è una dichiarazione che ha fatto ieri dalla Gruber, De Benedetti che ha detto con Terrenzi sono due bare ecco qua, insomma questo è quello che offre il panorama, neanche politico perché Benedetti non è neanche un politico, però è l'editore di un giornale nuovo che è il domani ma c'è anche il messaggero che a pagina 5 ci riporta le dichiarazioni di un sociologo importante come Giuseppe Derita, governo preda degli eventi, si muove sull'onda emotiva il fondatore del census dice la prima fase è gestita bene, ora confusione crescente non si fa politica rincorrendo, anche la divisione in fasce è una rinuncia a decidere questo è quello che dice Derita nei confronti del governo ma da ultimo voglio segnalarvi, no anzi il messaggero scusate ci ho segnato anche pagina 12 quindi c'era sicuramente qualcosa di interessante sì Tenaglia PD Italia Viva su Conte, si è preso troppi poteri e ai grillini basta con i veti, non si parla di rimpasto ma i Demme vogliono due vicepremier Movimento 5 Stelle, la squadra non si tocca, Renzi pronta lo strappo, via la cabina di regia sul recovery fund o salta tutto, vedremo se quello che ipotizzava il nascosto delegato della delegazione del Partito Democratico sarà così, vedremo, sarà molto interessante chiudiamo con il foglio perché c'è una conversazione di Stefano Allegranti se non sbaglio con Rosato, con Ettore Rosato, sì si parla con Salvini, noi Italia Via dialoghiamo con tutti anche con la Lega, serve senso dello Stato ed è Ettore Rosato che parla, è il momento della coesione nazionale, dice al foglio Ettore Rosato vicepresidente della Camera e presidente Italia Viva che lancia un messaggio a Matteo Salvini, decidi cosa vuoi fare da grande, ma partiamo dall'inizio, che cos'è questo caos nel governo? Domanda Allegranti, è il caos dell'approssimazione, siamo in un momento straordinario, difficilissimo per i semplici cittadini che rispettano le regole ma anche difficili per le imprese che non sanno come venirne fuori, in un momento come questo serve poca approssimazione, molta chiarezza e molto senso dello Stato, le cause di questo caos, quali sono domanda Allegranti, sono molteplici, è la prima volta che ci troviamo in una situazione così difficile dal punto di vista sanitario ed economico, ma c'è anche il ruolo del regista da tenere in considerazione che è quello del Presidente del Consiglio, questo tra l'altro Ettore Rosato sul foglio in prima pagina. Ma a questo punto direi che sarebbe utile vedere un po' di editoriali su questo, perché come vi dicevo le cose stanno un pochino cambiando. Allora, vediamo intanto Verderami sul Corriere della Sera a pagina 17, perché comincia in prima pagina, chiarirsi davvero e tra l'altro dice Verderami perciò sarebbe utile la verifica per non farsi... e vedete qui si parla della differenza di questa verifica dalle verifiche che si sono fatte in passato, anche Folli in qualche modo parla di questo, dice perciò sarebbe utile la verifica per non farsi trovare impreparati come è accaduto nella seconda ondata del Covid-19 con la rete sanitaria, la scuola, i trasporti pubblici, gli ammortizzatori sociali. Sono tutti errori che hanno un'origine politica. C'è un motivo quindi se i partiti chiedono al Premier Maggiore Collegialità nel processo decisionale e una distribuzione di compiti e ruoli nella fase di attuazione. Non è pretestuosa la critica che viene rivolta a Giuseppe Conte sulla governance del recovery fund, perché il tema riporta due domande. Chi decide come destinare le risorse e qual è il criterio che sottende alla scelta? Ovviamente questa critica, come sapete, è stata fatta in Parlamento direttamente da Matteo Renzi, quindi vedete come vengono riconosciute poi le cose, anche se magari in questo caso non si cita. Dice Nella fase dell'emergenza virus la politica è stata considerata un orpello accantonata come si fa con le cose superflue. La verifica avrebbe la funzione di rivedere la logica dei DPCM e delle task force, riconsegnando la responsabilità dei provvedimenti a chi dovrà poi rispondere davanti ai cittadini. Se questo fosse lo spirito della discussione significherebbe che la maggioranza, compreso cosa i cittadini vogliono sentirsi dire dal governo alla vigilia di un altro anno difficile. Siamo pronti, pronti ad agire nell'interesse nazionale dopo un confronto senza più furbizie con le opposizioni che hanno dato prova, a volte in modo contraddittorio, di voler collaborare. Ci si potrà inventare un altro termine per non usare più quella parola, ma non si potranno immaginare scorciatoie che non esistono, come non esiste il dogma dell'insostituibilità, la teologia della conversazione, della conservazione, la mistica della stabilità. Esiste solo un Paese che attende e peggio di una crisi di governo in piena pandemia, ci sarebbe solo un governo che non sa affrontare la crisi in piena pandemia. Così la mette Francesco Verderami sul Corriere della Sera. Ancora più esplicito in questo senso è Stefano Folli, che non solo riconosce a Renzi la serietà di una posizione, ma lo dice esplicitamente. E cioè, nonostante le apparenze, non sono molte le analogie tra la cosiddetta Prima Repubblica lo scenario nel quale siamo calati adesso, non fosse altro per la qualità della classe politica, migliore anni fa sia al governo sia all'opposizione. E nonostante le comprensibili ironie sui rituali che si ripetono, nemmeno la verifica del governo Conte, un rapido giro di colloqui con i capi dei partiti, assomiglia ai vertici di un tempo. Allora lo sconto politico era drammatico tra una fase e l'altra della vicenda nazionale, per esempio nel passaggio da centrismo esausto al centrosinistra. Ma nei periodi ordinari i vertici tra i capi politici della coalizione raramente venivano a capo del dissapori, ne bastavano appuntellare il governo schricchiolante. Servivano per lo più a emettere un comunicato latte e miele di ipocrita concordia, una sorta di indizio definitivo da cui i giornalisti capivano che la crisi sarebbe aperta di lì a poco con le dimissioni del premier pro tempore nelle mani del capo dello Stato. Di solito, peraltro, i rapporti si ricomponevano poi abbastanza in fretta attraverso un riassetto o un ricambio di ministri, spesso, ma non sempre, con un diverso premier. Questo accadeva perché il sistema aveva una stabilità di fondo capace di assorbire le tensioni. Ora è tutto diverso. Le crisi vengono soffocate finché è possibile e il governo appare come ingessato. I conflitti si consumano all'interno in forme paralizzanti, ma evitano le dimissioni del Presidente del Consiglio perché nessuno sa bene cosa può succedere dopo. Del resto, il centro di gravità si è spostato adesso tende ad essere a Bruxelles, sede della Commissione europea, che non è ancora un governo sovranazionale ma a tratti gli somiglia. Di conseguenza, le beghe domestiche sono meno centrali e cruciali nel gioco del potere. In altri tempi, Conte avrebbe già rimesso il mandato al Presidente della Repubblica perché la crisi del suo governo è nei fatti. Ma oggi, in piena emergenza sanitaria e all'inizio di un quadro svilacciato, tutto diventa più difficile. Ecco la parte più interessante. Il manessere è diffuso e Renzi ha dato voce con più vigore a uno scontento generale. Tuttavia, il PD, che condivide le diagnosi dei renziani sul ritardine ad impianze del governo, è in buona misura anche la sua, poi si ferma sull'orlo dell'abisso che significa dimissioni di Conte e ingresso nella zona grigia in cui cercare un nuovo governo e una maggioranza in parte diversa, impresa al momento in realistica. In poche parole, i problemi posti da Italia Viva, dalla gestione del recovery al controllo degli apparati di sicurezza, sono reali e non si risolvono offrendo un paio di poltrone ministeriali ai reprobi. Questa volta Renzi non può permettersi di indicare i buchi neri dell'agenda di governo per poi ritrarsi sotto la tenda. La piccola verifica di queste ore non è decisiva per le sorti di Conte, ma lo è per la credibilità del senatore di Scandigi. Di certo, egli non potrà ripetere gli errori commessi in Parlamento nel caso Spadafora. Il problema è che nessuno, neanche Renzi, può favorire a cuor leggero la caduta del governo tra qualche settimana dopo il bilancio. Non siamo appunto nella prima repubblica. Oggi ogni immossa è senza paracadute, perché il sistema è sconnesso e un'alternativa all'attuale maggioranza non c'è. Si può costruirla, forse, ma è compito complesso a cui dedicarsi con discrezione al di fuori della scenografia dei talk show. Così la mette Stefano Folli sulla Repubblica. Voglio segnalarvi ancora, perché anche qui ci sono cose, sorgi, che nei giorni scorsi aveva parlato di Renzi contro la comunità europea, che voleva, la task force, la comunità europea e via dicendo. E adesso parla invece il rischio, terza ondata, salverà l'esecutivo. Come abbiamo potuto placarsi la tempesta che aveva investito Palazzo Chigi in così poche ore è presto detto. In qualche modo, con l'intuito politico che tutti gli riconoscono, Renzi aveva dato voce a un disagio esistente da tempo nei confronti di Conte, non solo da parte di Renzi stesso, ma anche di Zingaretti e Di Maio. Una mancanza di attenzione alle richieste degli alleati della maggioranza. Un far da solo senza spiegare o senza spiegare abbastanza. Questo malessere è cresciuto fino a sfociare, dopo l'intervento del leader di Italia Viva, in un silenzio immarazzante, rivelatore di una totale mancanza di solidarietà per il Premier dopo l'attacco più forte subito negli ultimi tempi. Ma quando appunto questo pesante mutismo ha rischiato di trasformarsi in una crisi, Di Maio per primo e quasi contemporaneamente Zingaretti, con l'aggiunta di quello che viene considerato il responsabile della linea politica del PD, Binet, Bentini, sono usciti allo scoperto per togliere dal campo questa possibilità. Le immagini di gente sconsiderata che affollava le vie dei negozi sabato e domenica hanno fatto il resto chiedendo un severo intervento del governo simile a quello, ma vedremo poi quanto, della Merkel in Germania. Così la verifica, intesa come anticamera di una crisi, si è sgonfiata come un soufflé. Conte resta al suo posto perché in un momento come questo c'è bisogno di un governo pienamente in carica. D'altra parte il Presidente Mattarella aveva avvertito fin da prima che per lui la caduta del governo equivaleva a nuove elezioni. Veramente non era questo, ma insomma. E un sondaggio del fatto, non a caso ieri, prevedeva che dalle urne uscirebbe una vittoria eclatante della destra. Vabbè, così la mette Marcello Sorgi. Con questo possiamo chiudere anche la parte politica che riguarda il governo e la maggioranza. Avete sentito Mattarella chiamato in causa e allora il Corriere della Sera che invece, diciamo anche qui, non voglio minimamente usurpare le parole di Mattarella, però Marzio Breda scrive un retroscena, una nota, Marzio Breda e l'equirinalista del Corriere della Sera, che viene titolata così. Mattarella avvisa premier e partiti. Ora serve un patto di legislatura. Il Colle chiede che la verifica risolva le questioni aperte, il no a maggioranze precarie. Insomma, vi ricordate che cosa aveva proposto Italia Viva, Renzi, nelle settimane scorse? Esattamente un patto di legislatura. questo è quello che ci dice il Corriere della Sera. Anche il foglio si occupa del Presidente della Repubblica e lo fa in prima pagina e poi in quarta. Vediamo se lo troviamo. Ecco qua, lo scudo del Colle su Conte che si fa forte della debolezza del Movimento 5 Stelle ed è Valerio Valentini che scrive questo articolo e che rafforza l'idea che, diciamo, Mattarella sia in qualche modo proteggendo Conte dal punto di vista della permanenza al governo. Poi c'è il centrodestra, ma questo ce la cadiamo facilmente perché il chiarimento Salvini-Meloni non esiste che si vada con altri, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Il leghista se cade il governo elezioni o noi avanti con qualcuno di buona volontà. Quindi è un rientro di Salvini sotto questo punto di vista. Ma se volete c'è la Repubblica che a pagina 11 il voto è meno vicino, Salvini fa dietro Foronte, Meloni mai con altri, faccia a faccia tra i due leader. Il leghista non parla più di governo Ponte, ma Giorgetti plaudo e ha le sue aperture Berlusconi più isolato, ci dice Concita Sannino sulla Repubblica. Abbiamo anche la stampa, così abbiamo visto i tre giornali principali, la stampa è a pagina 5, Salvini apre ancora a Renzi, Meloni lo gela, è inaffidabile, centrodestra diviso sul rottamatore, il leader di Fratelli Italia, no, un governo di transfughi e traditori. Ma così chiudiamo anche questo capitolo sul centrodestra. Il centrodestra si sfila, no, la mangiatoia, Meloni punge Salvini, per noi solo scenario di unità, Tagliani di Forza Italia dice decideremo insieme. Anna Maria Greco ci parla del retroscena che riguarda il centrodestra e poi sempre sul centrodestra, sul centrodestra unito sulla manovra, flat tax e tablet gratuiti, i giolli che l'opposizione vuole mettere in manovra. Bene, chiudiamo anche il capitolo centrodestra e voglio segnalarvi però sul foglio una lettera che Carlo Calenda scrive al foglio. Un altro governo c'è, unire le forze più europeiste per lasciare all'opposizione il modello Diba e Meloni, un'idea concreta. E dice tra l'altro non siamo davanti a una crisi di governo ma a una crisi della Repubblica, lo Stato ha smesso di funzionare, non riusciamo a spendere i soldi che stanziamo, a far funzionare la sanità, a gestire un'app o a pianificare come investire 229 miliardi di euro. Le ragioni sono molte, la principale è la separazione tra politica e amministrazione, in Italia teorizziamo che il politico pur e per conseguenza la politica debba essere lontano dalla tecnica di governo. Ci siamo scordati che l'etimologia stessa della parola politica è arte di governo della polis. Prigionieri per decenni di questa allucinazione abbiamo prodotto uno Stato ingovernabile perché essenzialmente non curato. questo tra l'altro è Calenda che poi dice che in realtà ci sarebbero i numeri per fare un governo diverso di persone preparate, avete visto anche ieri parlava di Bonaccini, Zaia e compagna bella. Ma insomma, va segnalato che in tutto questo ricompare il nome di Draghi e perché compare? Perché ieri Draghi è intervenuto, ce ne parla Federico Fubbini in prima pagina sul Corri della Sera, sguardo lungo per la crescita, Draghi e il dossier su imprese e economia, ma poi a pagina 11 c'è tutta l'intera pagina dove dice che la sostenibilità dei debiti pubblici sarà giudicata anche da come verrà impiegato il recovery fund, i progetti devono avere un rendimento elevato. E tra l'altro, dice Draghi, quel che bisogna valutare è se un progetto è utile o no, se supera certi test che riguardano il suo tasso di rendimento sociale come anche nell'istruzione o nel cambiamento climatico. E poi per quanto riguarda le banche e il credito, a un certo momento qualcosa andrà fatto per il patrimonio delle banche, che siano BED, banche, aumenti di capitale o altri interventi, ci desiderà occupare della questione. E poi sulle imprese, perché non vediamo molte insolvenze nel mondo, i sussidi e i crediti garantiti stanno coprendo una realtà molto più preoccupante di quanto possiamo stimare ora. Insomma, al di là di tutto, il fatto che ricompare Draghi in un momento in cui qualcuno vorrebbe che la crisi fosse già chiusa, superata, eccetera, eccetera, qualcuno invece ritiene che la questione è del tutto aperta, è sicuramente qualcosa che farà, diciamo, fibrillare l'equilibrio nervoso del Presidente del Consiglio. Vediamo ancora sulla Repubblica si parla di Draghi a pagina 13, crisi, la ricetta di Draghi, basta aiuti a pioggia, servono misure mirate, Francesco Manacorda ne parla per l'appunto su Repubblica a pagina 13 e poi se volete c'è ancora il messaggero a pagina 9, il rapporto G30 curato da Draghi contro l'incubo fallimenti, un piano pubblico privati. L'ex governatore della BCE dice è urgente agire, la crisi esploderà con la fine degli aiuti statali, piccole e medie imprese a rischio, gli NPL possono indebolire la capacità delle banche. Questo per quanto riguarda anche le dichiarazioni di Draghi. C'è qualcun altro che anche parla del recovery oggi e ha una certa titolarità a farlo ed è il membro del comitato esecutivo della BCE e mi riferisco a Fabio Panetta che dice la spinta del recovery vale il 3,5% del PIL, ma per l'Italia è ora di investire e innovare. Questo è quello che sulla stampa scrive Panetta. Bene, uno dei problemi che ci troviamo di fronte è quello della povertà, ieri c'erano molti servizi televisivi in questo, della Caritas che in diverse città italiane sta facendo un lavoro importantissimo, ma un po' tutto il terzo settore, il volontariato che se ne occupa, ma insomma, il Corriere della Sera, pagina 23, in fila per il cibo con i nuovi poveri, anche un euro fa la differenza, Milano, l'Onlus, pane quotidiano, ora più casi e insomma è il racconto di una povertà che avanza perché va sempre tenuto presente. In questa pandemia ci sono i garantiti, ma ci sono tanti che non sono garantiti e le incertezze delle misure, apri, chiudi, imprese che non sanno che cosa fare. Insomma, la situazione è sicuramente una situazione che inevitabilmente sta creando sacche di povertà sulle quali bisogna immediatamente agire. Un caso, e così abbandoniamo poi il tema del Covid, un caso ancora aperto è quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e la questione prende corpo sui giornali, a pagina 8 della stampa, il Ministero della Salute in subbuglio. Sileri attacca la gestione Speranza, il vice è sempre più isolato, ha chiesto le dimissioni del segretario Ruocco, ma il vero bersaglio è il titolare di Castero e proprio Pier Paolo Silieri viene intervistato da Paolo Russo sul taglio basso della stampa, non c'era un piano pandemico, medici mandati allo sbaraglio. Il vice ministro della Salute dice Speranza, spero la pensi come me. Mi aspetto dimissioni e scuse da tutti coloro che in questi anni il dossier se lo sono passato di mano, dice tra l'altro Silieri, e poi dice dobbiamo impedire l'aumento dei contagi, noi il lockdown totale lo abbiamo fatto prima dei tedeschi, e ancora dice il 7 gennaio si aprono le scuole, si lavora per impedire gli assembramenti sui mezzi pubblici e da ultimo negli USA, il giorno del ringraziamento e il Black Friday hanno fatto raddoppiare casi e morti in 15 giorni. Questa è l'intervista al vice ministro del Movimento 5 Stelle, Silieri, anche il giornale in prima pagina si occupa di questo, il titolo di apertura della prima pagina, le carte nascoste sul virus in Italia, il documento che a maggio faceva a pezzi la risposta di Roma al Covid, un patchwork di dati raccolti con carta e penna, è il virgolettato che viene messo sul giornale in prima pagina sul report dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e su questo se volete anche il tempo titola a pagina 6, pure l'OMS scarica guerra, l'organizzazione gli ritirerà le regole per il caso del report scomparso sulla impreparazione dell'Italia alla pandemia, così il tempo. Bene, alcune notizie rapide, la Raggi ha fatto dichiarazioni spontanee ieri al processo, Raggi si difende in aula, va davanti a testa alta, vedremo sabato dovrebbe esserci la sentenza, per quanto riguarda più in generale le città, vi ricordo il Sole 24 Ore, ieri aveva fatto il consueto elenco della graduatoria delle città, come si vive e quali sono le cose, prima era Bologna, l'ultima era Crotone, oggi c'è un articolo sul Corriere della Sera su Bologna, ricchezze svago, Bologna è prima, la classificazione 24 Ore sul benessere, al secondo posto Bolzano, Milano è dodicesima, non parliamo di Roma che è retrocessa credo al trentottesimo posto. A proposito di città, c'è una vicenda che riguarda Reggio Calabria, la prendiamo dall'avvenire in prima pagina e non c'è molto sui giornali, ma insomma è una notizia che hanno votato i morti, urne truccate a Reggio Calabria, arrestato consigliere del PD, fasi certificati per le comunali. Andiamo avanti con La Repubblica che è a pagina 10, con Liliana Minella parla della norma che ha salvato il suocero di Conte, pagina 10, Italia viva contro il Premier sulla legge salva suocero, ci dica chi l'ha scritta, dopo la condanna cancellata a Cesare Paladino, l'affondo del Renziano Anzaldi. Norma voluta da Palazzo Chigi, Liliana Minella e Malerana Vincenzi scrivono questo articolo che tra l'altro dicono che la Procura di Roma ha fatto ricorso nei confronti della decisione del GIP. Ancora va segnalato sempre da Repubblica, pagina 21, che c'è lo sciopero dei giovani avvocati, i giovani avvocati scendono in piazza senza concorso e con paghe da fame, l'esame rinviato in primavera a causa Covid, i grandi studi in campo per facilitare l'accesso alla professione, un anno di pratica e solo due prove scritte. Prendo su questioni giudiziarie, vediamo il caso Consip sul prima pagina del riformista, caso Consip come ti teleguido un testimone d'accusa, scrive Sanzonetti, una storia abbastanza buffa, notatevi prego la sobrietà della scelta dell'aggettivo, quella delle perquisizioni a casa di un personaggio chiave nel processo Consip e cioè di Marco Gasparri, accusatore, unico accusatore di Alfredo Romeo. Si è scoperto dalle intercettazioni eseguite dalla stessa procura di Napoli, ma poi restate sepolte per anni nelle scartoffie, che il maggiore Scafarto, che era stato incaricato di perquisire casa a Gasparri, prima di perquisire gli permise, di telefonare alla moglie che era in casa e poi lui stesso parlò con la moglie e l'avvertì che dopo mezz'ora lo avrebbero perquisito. Faccia quello che deve fare, disse, virgolettato. Ora, a occhio e croce, in giurisprudenza, la caratteristica della perquisizione è la sorpresa, altrimenti non ha alcun valore. C'è di più, mentre avveniva la perquisizione concordata, il futuro avvocato di Gasparri telefonava a Gasparri e gli diceva che lui stava nell'ufficio di Woodcock, che sapeva tutto, di stare tranquillo, di non fare cazzate e di nominarlo suo difensore. Dall'ufficio del PM, si domanda Sanzonetti, e che ci faceva l'avvocato nell'ufficio del PM? E come poteva sapere della perquisizione al suo futuro assistito? E poi, la sera di quello stesso giorno, 7 dicembre 2016, l'avvocato telefonò di nuovo a Gasparri e lo avvertì che la sua deposizione era fissata per il 16 dicembre. Cioè, se si capisce bene, un avvocato ancora non nominato ha concordato col PM la deposizione di un imputato che poi si svolgerà davvero il 6 dicembre ed in quella sede Gasparri lancerà le accuse contro Romeo. Tutto regolare? Tutto secondo la legge? E se uno sospetta che ci sia un biscotto, come dicono i giornalisti sportivi, sicuri che sia fuori strada? Così si domanda sul riformista Sanzonetti. Sempre sul riformista segnavano a pagina 5 un articolo che riguarda ancora Palamara. L'accusatore di Palamara brigava con Palamara. Tutti zitti. Il sostituto PG Casella chattava con l'ex leader ANM e gli chiedeva favori. Tra i questuanti Pietro Gaeta, colui che lo ha rimosso dalla magistratura, che ha ottenuto la nomina proprio dopo un incontro organizzato con il RAS. La vicenda Palamara ci lascia sempre un sacco di sorprese. Su tutti i giornali c'è la cosa del blocco di ieri di Google, Corriera Sera a pagina 21 se volete, mentre sulla Repubblica a pagina 25 potete trovare il governo replica la commissione, non può bocciare la salva Mediaset dopo che la UE ha bocciato la norma salva Mediaset. La vicenda Reggeni è su tutti i giornali, Repubblica 14, pagina 14 e 15, ma segnalo in particolare Galli della Loggia sul Corriere della Sera in prima pagina. gli assassini di Reggeni è la nostra impotenza, ma segnalo anche sulla stampa pagina 27 Francesca Sforza, le forze del UE per punire gli aguzzini di Giulio e poi ancora sempre una lettera inviata da Emma Bonino, caro Presidente perché mi indigna il premio a raiz, lettera inviata a Macron. Per quanto riguarda invece una vicenda, e adesso chiudiamo davvero, che in qualche modo fa pensare molto alla vicenda Cucchi, ce la dice domani a pagina 4 con Giovanni Tizian, nella cella telecamere fuori uso i sospetti sulla morte di Scalabrin. Emanuel, 33 anni, era stato fermato dai carabinieri il 4 dicembre. Secondo gli avvocati è stato colpito durante il fermo. In un documento il giallo delle registrazioni mancanti nella caserma di Albenga, dopo l'arresto per droga. È una vicenda che andrà approfondita questa, perché sicuramente c'è qualcosa da chiarire. Qualche giornale, lo prendiamo in particolare da Libero, dà notizia che la Presidente Casellati riunirà l'ufficio di Presidenza per occuparsi di Ottaviano del Turco, domani la Casellati si occupa dell'assegno tolto a Del Turco, convocato il Consiglio di Presidenza del Senato. Sulle carceri voglio segnalarvi due cose sul riformista, una a pagina 5, celle meno piene grazie al PD, Movimento 5 Stelle contro, li convinceremo. Parla il senatore Dem Franco Mirabelli via libera ai nostri emendamenti che consentono i domiciliari a chi deve scontare meno di 18 mesi fuori dal carcere chi lavora a un permesso fino al 31 gennaio. Ma la destra specula, è un'intervista di Angela Stella a Mirabelli e poi però sempre per quanto riguarda le carceri c'è Rita Bernardini che come sapete da più di un mese sta digiunando e anche qui Angela Stella che scrive carceri il premier pronto a incontrare Bernardini. All'esponente radicale in digiuno da 35 giorni lo hanno comunicato Manconi, Colombo, Flick e Veronesi che ieri hanno visto Conte. È interessante, vedremo come svilupperà questa situazione. Voglio segnalarvi sulla pena di morte due articoli sulla Repubblica, pagina 30, uno di Vernetti che riguarda la condanna dell'impiccazione del giornalista in Iran, il cappio che sveglia la UE, l'impiccazione appunto del giornalista Gianni Vernetti e l'altro invece è Luigi Mancone, il diritto giusto e la paura, gli italiani e la pena capitale, questo sulla Repubblica. Per la politica estera vi segnalo i grandi elettori che blindano Biden e che diventerà Presidente della Repubblica e poi da ultima, pagina 17 della Repubblica stessa, a Cuba va in scena la protesta degli artisti, dateci pane e libertà. Con questo chiudiamo la rassegna stampa di oggi, vi auguro una buona giornata e se volete ci vediamo domani alla stessa ora. Buona giornata a tutti.